buongiorno a tutti allora sto giocando a mille cratte sono anche su discord con due miei amici sto facendo un video per me non sto parlando da pazza perfetto ho deciso di farvi vedere casa mia anche perché circa un mesetto fa non vi ho fatto vedere niente ed ecco qua va bene non ce l'ho vabbè si aspetta un minuto un attimo ok perfetto allora intanto allora in questo momento sono come avevo detto in vocale con due miei amici aspettate che adesso riparo un attimo qua ave dicevo adesso qua c'è il portale del nether qua ci dovrebbe essere in teoria la vasca del delfino che poi modificherò un attimo c'ho un alveare allora per ora è questa casa mia l'ho un po' modificata ah si qua c'è la testa di un mio amico qua ho modificato c'ho gli acciolotl poi qua c'ho gatti e pappagalli qua c'avevo anche una mushroom strano che non sono andata dall'altra parte nel frattempo vabbè poi qua c'ho le farm qua c'ho l'ascensore che va su guardate che è bellissimo l'ho progettato insieme a un mio amico e questa è la discesa vabbè fatto sta poi c'ho diversi alberi che qua abbiamo fatto anche una piccola cena se che poi toglierò perché non mi piace vabbè poi la cio le rame aspetta vi faccio vedere anche un'altra cosa anche qua sotto c'ho le uova di tartaruga che qua c'ho anche di nuovo la farm e qua l'ho un po' modificata guardate che bella qua qui sono due bersagli ma perché mi servivano per decorazione questa è la mia vecchia skin infatti l'ho un po' modificata guardate che bella mi piace tantissimo infatti ho un po' riordinato tutto poi l'ascensore prima o poi avrò voglia di ripararmelo poi qua vabbè fatto sta adesso qua c'ho tutte le casse e roba del genere e questi li ho recuperati da una mia escursione che vi do un consiglio il boss non affrontate però perché vi shot in un attimo vabbè fatto sta praticamente poi qua sopra c'ho il tavolo degli incantamenti dove c'ho anche tante casse dove metterò anche qua a posto ma sinceramente non so cosa mettere qui poi un altro piano che è l'ultimo è l'ultimo piano questo infatti ci ho messo anche le liene per decorazione guardate che belle e qua siamo l'ultimo piano di casa mia e sopra non vi dico la fatica tremenda nel fare il tetto e fatto sta e basta il tour della casa è finito quasi eccola adesso qua sotto c'ho le gabbie degli animali lì c'è dovrebbe essere un delfino che poi riparerò qua c'ho il solotto come vi ho fatto vedere qua c'ho le due cose prese da quell'escursione la poi c'ho le uova di tartaruga qua c'ho le rane qua i pesci tropicali e qua c'ho il pesce palla e poi qua è l'ascensore che vi ho fatto vedere prima che ho dovuto un po' guarnirlo allora allora per oggi è tutto lasciate like iscrivetevi al canale se anche voi volevate adesso vi ho fatto vedere casa mia e poi magari fatemi vedere fatemi sentire un po' le vostre su minecraft perché sicuramente siete più bravi di me allora per oggi è tutto lasciate like iscrivetevi al canale se anche voi avete costruito la cosa più difficile di quella che ho fatto io allora iscrivetevi al canale se volete unirvi all'asa femmini e noi ci dormiamo domani con un nuovo blog ciao ciao